Ci sono anche le gare di Eboli e Giffoni-Vallepiana fra i 44 presunti appalti truccati finiti nel mirino della DDA che ha prodotto sei ordinanze di custodia, tutte per imprenditori, operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti ed esponenti della pubblica amministrazione. I reati ipotizzati sono turbata libertà degli incanti, turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente, falsità in atti pubblici, in particolare di verbali di nomina di commissioni giudicatrici di gare ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri esisterebbe un sistema collaudato con ruoli ben definiti e metodologie ormai rodate in anni di attività creato allo scopo di ottenere bandi di gara di comodo ritagliati sulle esigenze privatistiche degli imprenditori coinvolti nel settore della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. In relazione anche ad appalti da centinaia di milioni di euro. I carabinieri precisano che saranno le successive fasi delle indagini a stabilire se i soggetti indagati siano meno responsabili delle condotte delittuose loro attribuite. In ogni caso gli elementi indiziari acquisiti dagli investigatori nel periodo di indagini circa le modalità di affidamento e gestione dei bandi di gara da parte di diversi comuni delle province di Napoli, Caserta e come detto Salerno sono basati su una serie di elementi obiettivi e tra loro convergenti, tra cui intercettazioni telefoniche e soprattutto ambientali supportate da servizi di osservazione, perquisizione e sequestri di notevole documentazione anche informatica.